Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi andremo a parlare delle live di Davide di ieri sera, in cui è successo un puriferio. Abbiamo assistito ad uno spettacolo davvero indecente, Davide si è scagliato contro Luciana, l'ha letteralmente aggredita, a mio avviso Luciana non aveva fatto assolutamente nulla questa volta, quindi secondo me non si è meritato quel tipo di trattamento e cosa ancora peggiore, insomma Chiara non ha alzato un dito per fermare la furia dell'uomo alfa, devo dire che era davvero indefalito, io non so se voi avete visto questa live, secondo me lì è uscita proprio la sua vera natura, c'è stata poi una seconda live in cui gli si è scusato, si è pentito, ma secondo me solo perché ad un certo punto in chisura della live precedente insomma è intervenuta Chiara e l'ha rimproverato, comunque ragazzi partiamo dall'inizio così io vi spiego bene come sono andate le cose. Allora Davide va in live, stranamente da solo perché da quello che ho capito Luciana stava riposando, quindi si parla del nulla cosmico e all'improvviso arriva Chiara e dice che ha smarrito la sua fede, Davide le dice vabbè che lui è impegnato a fare la live in quel momento quindi non può aiutarla a cercarla, Chiara dice che ci spiega che lei ha tolto il bucato dall'asciugatrice, ha portato dei vestiti in camera di sua madre e all'improvviso si è accorta di non avere più questa fede. E Davide dice che in effetti da quando è dimagrita ha sempre problemi perché la perde continuamente, è stata portata anche in gioielleria per farla stringere, ma sua moglie insomma continua a perdere peso, quindi non è servito a nulla e poi ad un certo punto decide anche lui di andare insomma a cercarla e abbandona quindi la sua postazione e viene sostituito da Chiara che è visibilmente angosciata per questa cosa, dice di aver guardato ovunque nella lavatrice, nell'asciugatrice, tra i vestiti, ma insomma nulla e poi ad un certo punto suggerisce all'uomo alfa di controllare nello scarico del lavandino e poi va via anche lei perché dice che è troppo in ansia, che non riesce a stare con le mani in mano e quindi si va a sostituire da Luciana che ricordiamo in quel momento era nella sua stanza. Luciana ovviamente non si lascia scappare quest'occasione, quindi di avere una live tutta per sé, si mette lì a ridere, a scherzare, si prende anche il gioco di sua figlia, dice ma chissà quando la va persa, se ne accorta solo ora, ci racconta poi che Chiara è entrata in camera sua con una palla di vestiti e gli ha scaraventati tutti sul letto e proprio in quel momento si sente Chiara urlare, dice insomma che ha ritrovato questa fede. E ragazzi miei, lei inizia a piangere a dirotto, cioè piangeva proprio a singhiotto come una bambina, tant'è che Luciana dice che sembra una svitata ma lo dice così davvero in modo giocoso e poi continua ancora a ridere, a scherzare, a prendere in giro anche Davide dicendo che si è cimentato a fare l'idraulico, che ancora è sotto il lavello, dice di sentire un odore disgustoso, si preoccupa se il suo genero abbia aperto una fogna o si abbia distrutto tutto l'impianto idrico. Insomma lei si sta davvero divertendo tranquillamente con tutta la chat, non sta facendo nulla di male. All'improvviso però un utente le fa notare che Chiara in quel momento insomma era davvero preoccupata e dispiaciuta di aver perso la fede e lei invece se la rideva beatamente. E la socerina scrive in chat insomma la signora Daniela insomma concorda con quest'utente. E dopo qualche secondo torna Davide in live, era tutto sudato e parecchio stizzito, e quindi con il suo modo così un po' minaccioso chiede a Luciana cosa sta succedendo, cosa è combinato. Qualcuno insomma dice a Luciana che si è lamentato per la sua ironia e lui dice infatti che non c'è nulla da ridere. E poi si sente anche Chiara dalla sua stanza insomma rimproverare sua madre dicendo che la stava prendendo in giro mentre lei era disperata, stava piangendo. Luciana dice che stanno facendo una tragedia per nulla, che questa Benedetta Fede tra l'altro è stata anche ritrovata e ne stanno facendo un processo e quindi lei stufa di questa situazione, decide di abbandonare la live e tornare in camera sua. e Davide dice che come al solito Luciana ha fatto la sua sceneggiata che proprio il giorno prima loro hanno messo in chiaro delle cose ed oggi lei ha avuto di nuovo questo atteggiamento che ora insomma lei fa la parte dell'offesa e poi all'improvviso così senza motivo inizia ad alzare il tono della voce e dice ma se questo l'avesse fatto Alessandro quella bestia umana quindi Alessandro riferito ad antisettari, il caro amico di Luciana quindi lui dice questa cosa proprio insomma chiaramente per provocarla e proprio in quel momento ragazzi la socerina scrive in chat Luciana ha sbagliato e da lì ragazzi succede il finimondo perché Luciana non ci sa questa cosa e dice al genero che non le importa nulla del giudizio di sua madre e lì ragazzi Davide perde letteralmente le staffe e comincia ad inveire contro sua suocera dicendo che deve portare rispetto Luciana risponde che il rispetto lo pretende anche lei da parte sua che non accetta queste critiche inutili e che ha sbagliato a parlare quindi si deve vergognare e Davide lì sempre più imbufalito dice a sua suocera che non si deve permettere di rivolgersi in quel modo a sua madre e a dire che si deve vergognare è lei quella che va a difendere un grandissimo stronzo uno che dice solo stronzate quindi dice che deve essere più educata e Luciana però non demorde e ribadisce che la signora Daniela se vuole dirle qualcosa glielo deve dire in faccia e Davide continua sempre più incavolato dicendo che deve portare rispetto a sua madre perché lui nei suoi confronti è stato sempre un uomo rispettoso che è lei quella che si deve vergognare perché mentre Chiara piangeva lei rideva e poi ad un certo punto così senza motivo giura di sputtanare tutti i suoi corrispondenti e lì Luciana non ci sta e gli dice fai come vuoi tanto questa è la tua vera natura e lui lì continua ad urlare come un matto dicendo che Luciana non comparirà mai più su YouTube perché è proprio per colpa sua che loro ricevono continuamente merda e Luciana gli dice che è un povero illuso e che deve andare a dormire Davide poi le dice insomma che deve essere rispettosa Luciana si sente gridare ancora dalla sua stanza che vuole essere rispettata anche lei poi vabbè in quel momento Davide chiude l'audio ma si vede che continuano a discutere animatamente poi viene riattivato il microfono e si sente Luciana dire che la signora Daniela non è una santa Davide allora disattiva nuovamente questo microfono e continuano a discutere quando poi Davide torna nuovamente a parlare ribadisce che sua suocera gli fa fare solo delle figuracce quindi non parteciperà più alle live dice che sa difendere solo persone squalide come ad esempio una graziella del vescovo dice che si dovrebbe vergognare e lì Luciana sentendo nominare una sua amica torna alla carica dicendogli che non si deve permettere che deve stare attento a come parla insomma chi si crede di essere e poi viene chiuso nuovamente il microfono e loro continuano a litigare in tutto questo Chiara devo dire che è rimasta beatamente nella sua stanza perché insomma ha fatto mandare l'onda questo scempio ad un certo punto si è limitata solo a scrivere in chat ma basta fermatevi tutti e due vergognatevi e solo quando Davide stava per per chiudere la live lei allora è intervenuta dicendo che entrambi stavano facendo lo schifo che Davide soprattutto ha offerto uno spettacolo sceno io non vi dico la faccia di lui che era terrorizzato in quel momento forse si è reso conto della situazione e lei poi a un certo punto gli ha ordinato di chiudere quella live di M e di chiedere scusa a tutti ho notato che la maggior parte in chat insomma gli utenti erano con Luciana perché tutti stavano provando a dire a Davide di calmarsi che Luciana questa volta non aveva fatto nulla di male cercavano anche Chiara per farla intervenire per calmare un pochino la situazione ma lei ovviamente se ne è lavata le mani ha lasciato che si scannassero poi lei è quella che ha paura che a sua madre possa venire un infarto insomma si è visto come ci tiene alla salute di sua madre a quei momenti davvero veniva un coccolone e lui lì che ancora le dava addosso comunque cosa succede dopo ovviamente Davide apre un'altra live intitolata chiedo scusa figuriamoci e dice che deve chiarire delle cose dice che lui ha fatto una grandissima figura di M che deve assolutamente chiedere scusa a sua suocera a tutta la sua utenza e dice che in effetti sua moglie gli ha confermato che Luciana non aveva fatto nulla di male quindi inizia ad incolpare la suocerina dicendo che ha sbagliato che lui l'ha avvisata tante volte di non scrivere in chat ma di scrivergli su whatsapp in privato e riconosce che ha detto una frase infelice nei confronti di Luciana quindi è proprio la suocerina insomma che deve chiedere scusa alla consuocera però ragazzi la colpa in questo caso insomma è degli haters perché lui dice che era già impanicato perché Chiara appunto aveva perso questa fede gli hanno fatto credere una cosa per un'altra lui quindi non ha capito nulla e ha iniziato ad inveire contro sua suocera in pratica lui inizia a prendersela sia con i canali di scolo e con tutti gli haters Luciana però proprio in quel momento gli dice insomma che era lui che doveva ascoltarla quando lei stava cercando di spiegargli le cose e che lei insomma non stava ridendo per prenderli in giro ma per sdrammatizzare ed intrattenere l'utenza e che quindi è stata colpa sua e poi gli chiede anche di smetterla ogni volta di mettere di mezzo i suoi amici Davide le dà ragione dice che però lui quando perde le staffe non ragiona più e infatti poi ad un certo punto decide di chiedere scusa anche a loro poi vabbè si crea un'altra discussione in live perché un utente scrive che un moderatore nella live precedente ha voluto mettere zizzania questo utente poi viene bannato perché non viene creduto da Davide e lì Luciana Sinalbra vuole di nuovo abbandonare la live Davide allora la invita a controllare tutta la chat della live precedente quindi Luciana accetta va a verificare proprio personalmente e non trova nulla quindi Davide afferma che ci sono troppe persone che vogliono solo creare scompiglio poi vabbè la live continua si parla di altro e in casa da Limberti è tornato quindi il sereno ragazzi che dire io se devo essere onesta sono rimasta sconvolta dalla reazione eccessiva di Davide nei confronti di Luciana ok che Luciana è quella che è una rompiscatola è pesante ha fatto uscite infelici insomma si è comportata male su YouTube però vedere tutta quell'aggressività tutta quella violenza verbale nei suoi confronti insomma da parte del Villanzone non lo so a me non è piaciuta per niente vorrei ricordare sempre a Davide che lui è un ospite dentro quella casa io sinceramente se fossi stata al posto di Luciana avrei preso che quattro stracce lo avrei sbattuto fuori dalla porta forse non lo so sarò anche ripetitiva ma io se fossi al posto della nipote o dell'altro figlio prenderei seri provvedimenti perché sia Chiara sia Davide secondo me hanno ridotto quella donna a diventare lo zimbello di YouTube e poi si permettono anche di trattarla in quel modo lì davanti a migliaia di persone non so io fossi loro fare qualcosa ragazzi fatemi sapere se voi avete visto questa live cosa ne pensate da che parte state se questa volta si è andato davvero oltre nei confronti di Luciana e quindi se è Davide quello che ha sbagliato non so fatemi sapere se la pensate come me io comunque vi leggerò a tutti sono davvero curiosa intanto vi saluto noi ci vediamo prestissimo baci